Sempre la sartoria del teatro comunale, Graziella alle prese con la taglia cuci. Che cosa stiamo facendo? È una cosa piuttosto complicata, c'è una tre aghi, guarda quanti passaggi. Siccome abbiamo un filo vecchissimo d'epoca, si rompe continuamente. Per i tuoi 200 fazzolettini ci vuole la mia pazienza. Guardate che bello questo meccanismo, la precisione e l'amore. Guardiamo che cosa viene fuori, ecco faccia vedere un attimo Graziella. E questo è il bordino dei nostri fazzoletti. Ecco il bordino che arriva. Guardiamo proprio come si fa. Magnifico, questa è la bordatura dei fazzoletti. Graziella, quante dobbiamo farle? 200. 200, pochi? Pochi? Abbastanza. Siamo nel bar. Grazie Graziella. Grazie a tutti. Grazie.